E diamo un po' di date Andrea, un po' di numeri di questo mototrainer, in primis, insomma vi rivolgete anche alle aziende, so che avete dei clienti importanti, quindi vuol dire che l'idea è giusta. Sì, siamo molto felici. È modesto Andrea, vede avesse tutto. E ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel nostro sogno di poter comunque avvicinare tutti gli utenti sulla motocicletta, ringraziamo in questo momento Lenovo Motorola che in questo istante ha quattro simulatori in tutta Europa, quindi uno qui a Milano, Spazio Lenovo, Corso Matteotti, piuttosto che in Romania, in Bulgaria e due sono in Germania, quindi è tanta roba. La collaborazione va di pari passo con Ducati, che anche loro ci stanno dando tanti panigale per accompagnare il simulatore. Poi questo si espande anche a collaborazioni che abbiamo avuto con Aprilia, abbiamo speduto adesso un mototrainer Aprilia-Malesia, per poi andare il KTM, settimana prossima, devo andare il KTM in Austria a portarne uno. Martin Goffert. Sì, esatto. E quindi i limiti veramente non ci sono più e sono tanti i nostri clienti che ci chiedono, anche i privati. Una perla è un nostro cliente in Thailandia, bellissimo, che accanto alla piscina ha il mototrainer, anche lui ovviamente ha una panigale e si diverte a casa. In Germania ti hanno chiesto il programma delle Fountain Treffen? Non ancora, ma è bello, sempre interessante quello, fagli le strade innevate, frena piano, vai dolce Emanuel, e lì bisogna guidare sulle uova.